Che fossero lì per vendicare Giuseppe Di Giacomo, ucciso pochi giorni fa in via Eugenio Lemiro, o al contrario per punire qualcuno che insieme al pregiudicato di Porta Nuova avesse qualche scheletro nell'armadio, non è ancora chiaro, ma sono queste le due piste sulle quali stanno lavorando gli uomini della squadra mobile. Di certo, quello che è accaduto martedì sera apre un nuovo fronte di indagine legato a doppio filo all'agguato della Zisa e che vede al centro il mandamento di Porta Nuova. Come scrive oggi Repubblica, a condurre gli agenti in Piazza Lolli martedì scorso sarebbe stata una telefonata anonima giunta al 113 che segnalava la presenza di una Fiat 1 sospetta. E in effetti gli uomini delle volanti qualcosa di sospetto lo hanno trovato perché in Piazza Lolli hanno fermato due uomini armati di una 7,65 e di una calibro 38. I due, Fabio Pispicia di 43 anni e Sergio Giacalone di 44, sono stati bloccati dopo aver cercato di fuggire. Nell'auto invece, risultata rubata, c'erano guanti e passamontagna. A convincere gli investigatori che quello sventato fosse qualcosa di più che una semplice rapina è proprio il curriculum di Fabio Pispicia. Fratello di Salvo, attualmente in carcere, personaggio di spicco del mandamento Porta Nuova, è imparentato anche con Tommaso Lopresti, scarcerato l'estate scorsa e ritenuto dagli inquirenti uno dei boss emergenti al vertice del mandamento. Anche per questo il sospetto è che i due uomini si trovassero a Piazza Lolli per un altro agguato. Il coinvolgimento di Pispicia riporta i riflettori sul mandamento di Porta Nuova attraversato da tensioni interne dopo le ultime operazioni antimafia che hanno portato in cella Capi e Gregarie in cui, proprio in questo periodo, si sta combattendo una guerra al vertice. Ora i sospetti attendono riscontri, per questo la calibro 38 sequestrata a Pispicia verrà messa a confronto con i proiettili estratti dal corpo di Giuseppe Di Giacomo.